Il Consiglio Comunale di Canicattì, sulla questione legata alla sospensione della fornitura idrica ed alcuni cittadini da parte di Girgenti Acque, ha deciso di costituirsi in giudizio contro la società che gestisce il servizio idrico. Dopo la protesta dei giorni scorsi, quando la Girgenti Acque aveva smesso di erogare l'acqua a quei cittadini, definiti morosi perché non avevano pagato le bollette, l'Assemblea cittadina si è subito attivata per cercare di risolvere il problema celermente e a salvaguardia della collettività. Il Consiglio Comunale sostiene che i cittadini non possono pagare quelle bollette perché sono state calcolate secondo un canone che era stato abrogato dall'Assemblea del 2008. L'atteggiamento così drastico della società ha fatto insorgere un'intera città, stanco ormai da tempo, dell'ente che gestisce l'erogazione idrica in provincia, che oltre a fornire un servizio inadeguato, si comporta in maniera spavalda e autoritaria verso i cittadini. La decisione ha provocato la reazione del segretario della Camera del Lavoro, Antonio Maira, che facendosi portavoce della rabbia dei cittadini ha occupato simbolicamente il comune, fino a quando il sindaco Corbo non ha preso in seria considerazione la vicenda. Da parte sua, Corbo si è apprestato ad inviare dapprima una nota alla Girgenti Acque e al Idrico, dicendo che la dura procedura adottata, si legge nella messiva, avrebbe causato problemi soprattutto a quei cittadini che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. In secondo tempo, chiedendo insieme al Consiglio Comunale un incontro urgente dinnanzi al prefetto di Agrigento, per affrontare il problema relativo appunto al blocco del servizio idrico, attuato senza mezzi termini dalla Girgenti Acque. Grazie a tutti.